L'ospitalità? Solo a chi la vuole fare. Il segretario provinciale della Lega, Andrea De Bernardini, interviene sull'accoglienza ai richiedenti asilo. Un tema caldo. In provincia sono già oltre 350 immigranti ospitati da una trentina di comuni. L'altra metà delle amministrazioni, invece, finora non ha dato la sua disponibilità. Io credo che insistere su quelli che non hanno ancora dato l'adesione a protocolli o comunque all'accoglienza sia sbagliato, perché se hanno detto di no, lo hanno fatto per motivi validi, probabilmente anche per una carenza di personale negli stessi uffici o per una differente sensibilità. L'immediato futuro vedrà l'arrivo in provincia di almeno un altro centinaio di richiedenti asilo, che per il segretario della Lega andrebbero accolti da chi già lo ha fatto finora. E non è una questione di scarica barile, fa sapere De Bernardini, semplicemente che ha già esperienza e in tal senso potrebbe accogliere senza grossi problemi altre due o tre persone. In ogni caso, il sindaco di Rocca Pietore non vuol sentir parlare di mancanza di sensibilità. Prima di aiutare tutte queste persone che continuano a migliaia a entrare nel nostro paese, bisogna pensare seriamente ad aiutare la nostra gente. Abbiamo anziani che non si riscaldano più d'inverno perché il costo dell'energia è troppo alto, abbiamo famiglie che non riescono più ad andare a fare la spesa con una certa serenità e abbiamo i conti della nostra gente sempre più in rosso.